Buongiorno, allora stavo provando i nuovi mascara per sopracciglia di neve l'ho appena provato, l'ho messo come vedete qui e ragazzi veramente le sopracciglia sono tutto siccome sono rimasta veramente colpita ho pensato di fare un video e farvi vedere l'applicazione è semplicissima, velocissima io sto mettendo lisboa ebony vedete ha questo scovolino piccolino molto molto pratico piano piano delicatamente vi ridefinisce in un attimo le sopracciglia grazie a tutti ed ecco qua mi sembrano veramente belle adesso vediamo quanto dureranno è proprio il primo giorno che le provo però mi piace tanto io ovviamente ho una frangettina però veramente definire le sopracciglia è fondamentale perché definisce tanto lo sguardo completa il trucco in maniera impeccabile e ci dà appunto definizione al volto allo sguardo buona giornata alla prossima grazie a tutti grazie a tutti